Ben trovati ad in primo piano l'approfondimento dalla Valtiberina, questa sera parliamo di pallavolo, di pallavolo di Serie C e lo facciamo con il presidente del nastro, Silci Duilio Cagnoni. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, vogliamo fare il punto a quattro giornate dal termine della regular season? Sì, diciamo che come nobile decaduta, l'anno scorso facevamo la Serie B2, che per noi è stato un sogno inseguito per diversi anni, ce l'abbiamo fatta, non siamo riusciti a rimanere. Abbiamo totalizzato 26 punti, non ce l'abbiamo fatta, pazienza. Come nobile decaduta, dicevo prima, stiamo facendo abbastanza bene, perché quest'anno chiaramente c'è una corrazzata che si chiama Terni, e anche il Terni che è veramente uno squadrone, sulle file giocatori come Coccetta, come Taba, come Sabatini, giocatori che hanno militato in categorie ben superiori alla Serie C e si è visto sicuramente fare a man bassa di questo campionato. Marco Taba, ex Pallavolo Città di Castello. Ex Pallavolo Città di Castello, Bastia, grandissimo posto. Chiaramente sono quei giocatori che in questa categoria sono di passaggio. Quindi un campionato in linea con le aspettative, ve la giocate e ve la giocherete nel gironcino play-off, l'importante è di arrivarci bene. Sì, è chiaro, bisognerebbe cercare di arrivarci con la migliore posizione in classifica possibile, purtroppo nel momento topico del girone di andata, negli scontri diretti, abbiamo avuto le defaianze di due giocatori per noi molto importanti, come sono Okaka e Bocciolesi, che sono stati determinanti per magari quello che poi sarà il rush finale, quindi quello che determinerà le posizioni in regular season. Al momento siamo quindi in classifica, speriamo di migliorare questa posizione, di riuscire ad arrivare quantomeno al terzo posto, sarebbe quello che noi ci si auspica, almeno potremmo eventualmente, se tutto dovesse andare bene, ma qui ci sono anche gli altri, che vogliono fare anche bella figura che gli altri, riuscire ad incontrare la corrazzata a teni in un'eventuale finale. Comunque, questa non è leggenda, i play-off azzerano un po' tutto quello che è il campionato, anche perché le squadre migliori si nascondono per arrivare in forma proprio nel gironcino play-off. E voi ve la giocherete comunque con tutti? Sì, io credo che la nostra squadra, al completo e magari riuscendo ad esprimere il proprio potenziale, può dare fastidio a tutti quanti. È anche vero che, questo per me è l'ottavo anno, con la Paula Volosecci, di cui Sette era presidente, e io ho sempre visto vincere poi anche i play-off, la squadra che comunque aveva terminato la regola season al primo posto. L'importante è che magari i lungo degenti, gli infortunati di lungo corso, siano al top della forma proprio nel mese di manco. È importante, quello è importante. Noi tre anni fa, l'anno prima che vinciamo la Serie C, per esempio, avevamo fatto una stagione, una regola season stupenda, perdendo solo due gare, e poi siamo andati a perdere in semifinale play-off con la sesta che era classificata, che era il Foligno, perché eravamo giù fisicamente. Però è chiaro che negli anni ho notato che comunque chi è terminato il primo posto della regola season ha poi vinto anche il play-off. A dire il vero, questa è stata anche una squadra che è stata molto rifondata rispetto alla passata stagione. alcuni innesti che provengono dalla Pallavolo Sansepolcro, che però ben si sono integrati con lo zoccolo duro, se lo vogliamo chiamare così, dell'anno. È chiaro che abbiamo dovuto fare a meno di alcuni giocatori che facendo il campionato regionale sono rimasti vicino a casa. Vedi Battistelli Centrale che è tornato a Spoleto, Trombettoni anche lui a Spoleto, Travicelli che è tornato a Foligno. Noi abbiamo ripreso e sono venuti dal Sansepolcro pochi giocatori che già comunque in presidenza avevano militato con noi, come Libero Moriosi, Guerri che è tutt'oggi comunque un tesserato nel Palavolo Selci dopo quattro anni di Sansepolcro. È arrivato Santi, è tornato Celli, anche un giocatore che ha sempre militato nel Sansepolcro a parte questa parentesi con noi quest'anno, oltre al papà che è entrato a far parte della nuova dirigenza. Che esperienza è stata giocare al Palachemun guardando da vicino l'RPA San Giustino? È stata sicuramente una cosa stupenda, bellissima e appena il Comune si è prospettato questa ipotesi di poter disputare gli allenamenti e le gare al Palachemun abbiamo subito detto di sì. Un ringraziamento va al Comune di San Giustino che anche quest'anno come sempre non ci ha fatto spendere nulla per poter usufruire di una struttura che penso sia tra i migliori in Italia. Poi avere magari vicino, parlare con giocatori di Serie A1 e di tecnici veramente che hanno fatto il miracolo come Fenoglio e come Zanini fa sicuramente piacere. Tribuna del Palachemun comunque con un pubblico gremito se consideriamo gli spalti che possono contenere fino a 2000 persone però voi le 200-250 persone le avete portate sempre. Sì, noi siamo contentissimi perché per una piccola realtà come noi riuscire sabato sera a portare al Palachemun magari si sperdevano poi quelle persone in un palazzetto che... Erano in tribuna VIP per dire la verità. Sì, è vero, come dici giustamente ma i nostri abbonamenti sono solo per tribuna VIP e sono completamente gratuiti, lo sai, non facciamo pagare ingresso. Per noi è stata gratificante avere sempre 250-300 persone nelle nostre gare casalenghe, è chiaro. Non potevamo guardare quello che era il pubblico dell'RPA con 1.600-1.700 persone in media, quindi vuol dire avere avuto anche 2.000. Anche 2.000. Anche 2.000-2.000 e 2.000, quindi la pallavolo in Valtibarina soprattutto in Comune di San Giustino è tornata un ottimo livello. Con questo rapporto con RPA che pian piano si sta cementando potrebbero esserci, potrebbe essere inserito qualche giovane nel nastro però per il futuro c'è qualcosa di nuovo, un futuro che a quanto pare qui il Presidente se lo dà in esclusiva non vedrà come Presidente Duilio Cagnoni. Sì, io mi auguro che nel proseguio chi è in società e chi rimarrà in società possa instaurare un rapporto profigo e positivo con l'RPA perché credo che ne vada a vantaggio di tutte le società. Questo non mi coinvolgerà in prima persona in quanto io a far data dal 1 di luglio da allora le mie dimissioni, già l'ho comunicato alla società, agli altri dirigenti non solo da Presidente ma dovrò diciamo così suol dire fare un passo indietro per problemi legati al lavoro, alla famiglia, un po' tutto quindi dopo otto anni credo che fare anche un passo indietro non sia poi... E che cosa hanno lasciato questi otto anni di cui sette da Presidente a Duilio Cagnoni? Per me sono stati otto anni bellissimi aver lavorato con un gruppo di amici perché tu sai benissimo Michele che quando si fanno queste cose si fanno con l'amicizia altrimenti con tanto entusiasmo abbiamo fatto una cavalcata che ci ha portato a realizzare anche se solo per un anno un sogno che avevamo nel cassetto riuscire a portare un piccolo paesino come Selci, 1800 anime, a disputare un campionato nazionale ce l'abbiamo fatta, per un anno ma ce l'abbiamo fatta e la cosa più importante è che siamo una società sana noi non abbiamo, credo, per quanto mi riguarda non c'è persona che possa vantare di avere dei crediti nei nostri confronti quindi bilancio sano che poi era lo scudetto del nastro Selci l'unico neo se lo vogliamo trovare è il non essere riusciti a creare un settore giovanile anche qui ce l'abbiamo messa tutta purtroppo la realtà comunale e locale non permette di avere un settore giovanile perché tu come sai hanno anche grosse difficoltà sia il Sansepolcro che Città di Castello che Milita in A2 al quale io auguro di riuscire a fare questo salto di qualità lo auguro di cuore a tutti i dirigenti da Joan, da Mauro Alcherigi, da Casselli, da tutti quanti perché veramente Città di Castello è una piazza a livello italiano molto conosciuta glielo auguro di cuore se hanno difficoltà loro a reperire magari i giovani figuriamoci una piccola realtà come noi siamo andati nelle scuole, li abbiamo provati in tutti i modi però oggi i ragazzi si dedicano ad altri sport e il futuro di Duilio Cagnoni comunque rimarrà con un ruolo diverso nella pallavolo a livello locale, che sia il nastro, che sia magari la neonata società gestita da Antonio Leonardo di settore giovanile ma no, io una volta diciamo che mi sentirei di tradire il mio paese la mia società, la società che ho preceduto e che ancora tutt'oggi comunque fino al 30 giugno presiderò per sette anni lascio per problemi legati anche al tempo non ho tempo, tu sai che oltre al lavoro faccio un'altra attività diciamo che chiamiamola artistica che mi porta via tanto tempo quindi poi lavorare per una società qualunque essa sia ma poi non avere il tempo, il sabato e la disponibilità per andare a vedere le gare che è la cosa più importante, quella che poi ti gratifica di più una società che comunque andrà avanti con figure nuove magari con qualche ingresso che sopperirà l'assenza di Duilio Cagnoni io me la auguro di cuore, mi auguro anzi faccio un appello a chi vuole bene alla pallavolo chi vuole bene alla pallavolo Selci magari di contattare me o anche gli altri dirigenti perché una mano in più fa sempre comodo ripeto, è una società sana con obiettivi giusti e quindi c'è solo da fare un po' ma non c'è da fare chissà quanto perché la nostra realtà soprattutto adesso è a livello regionale quindi è una società tranquilla, si fa tutto in amicizia questa è la cosa più importante e auguro di cuore a chi rimarrà di fare bene una società che comunque potrà contare sull'esperienza e sulla grande professionalità di Gilberto Leandri, di Alessandro Celli e di tutto lo staff che praticamente Carlo Magalotti vicepresidente, l'anzi Arduino segretario e loro sono quasi oramai da un ventennio nello pallavolo Selci che nacque nel 1989, tu ti ricordi bene Michele? Noi eravamo allora giocatori, anche te giocavi con me, ti ricordi? Per due stagioni, sì eravamo dei baldi giovincelli, io non tanto, tu eri più giovane e via di me di molti anni comunque è vero, è vero allora io per questa sera il nostro tempo a disposizione è concluso io ringrazio il presidente del nastro Cellci Duilio Cagnoni in bocca al lupo per la tua attività artistica che si implementerà dal primo luglio a me non mi resta che augurarvi un buon procedimento con i nostri programmi con In Primo Piano, ci vediamo domani sera grazie